Il presidente del Lion Club di Carbonia, Tilio Burdi, ha tracciato un bilancio dei primi sei mesi di attività dei soci del club che hanno svolto attività di servizio in sinergia con le istituzioni e le altre associazioni del territorio, indispensabile per migliorare l'impatto delle azioni sui bisognosi. Si è soffermato in particolare sul progetto 100 piazze per battere il diabete, che ha consentito di portare la prevenzione gratuita della malattia del diabete nelle piazze del territorio. Al momento sono stati interessati i comuni di Carbonia, Sant'Antio, Cogiba, Sant'Annaresi e Sant'Adi, in cui circa 600 persone si sono sottoposte allo screening. Sono stati consegnati gli attestati di benemerenza ad alcuni medici e infermieri per aver collaborato in maniera entusiastica e con elevato spirito di servizio allo screening sul diabete. Tra le iniziative compiute sono state ricordate le seguenti, il poster per la pace, la conferenza tradizionale sui diritti a difesa delle donne, che quest'anno ha avuto come oggetto una donna eccezionale di Sardegna e l'onora d'Arborea, le donazioni per la casa di accoglienza Lions di Cagliari e per il cancro pediatrico. Sono state avviate inoltre le attività che proseguiranno nel mese di gennaio con la premiazione del miglior studente ad essersi diplomato lo scorso anno nelle scuole superiori di Carbonia e il controllo oculistico dei bambini delle scuole dell'infanzia per l'ambliopia. Nel mese di dicembre, infine, per donare un sorriso anche a chi non avrebbe avuto i mezzi per poterlo fare, i soci hanno organizzato il regalo sospeso e il mercatino del Pigallassa.